Uccino? A me? Uccino? Ti chiamo Uccino. Ma e di la lavare? Che devo fare? Questa è un'equazione in base a x. 7 x al quadrato più 3 x fratto 5 meno x, il tutto più 9 uguale 12. Beh. Trova la x. La x. In questo caso non è difficilissimo. Diciamo la x sta dappertutto tranne che è vicino al 9 e vicino al 12. Se uno le cerca, le cose le trope. Perché poi basta metterla. Tante volte come se è anche sfuggita la x sta dappertutto.